Gentili telespettatori, buona giornata e Italia Viva tramite la Paita. Dice che adesso che Giorgetti annunciano nuove tasse, la benzina, il diesel, adesso cosa farà Meloni? Si inventerà un complotto per distrarre l'opinione pubblica? E così Raffaella Paita, coordinatrice e senatrice di Italia Viva in Commissione Bilancio, commenta sul giornale Fanpage le parole di Giorgetti. Il governo Meloni non ha fatto altro che alzare le tasse, dice la Paita. La prossima manovra vedrete, anche se la Premier proverà a concentrare l'attenzione degli italiani su altro. Allora, non ha fatto altro che alzare le tasse, è una bugia, non è vero. Non ha fatto altro che alzare le tasse, è una vera e propria balla. Avete visto come si fa la politica oggi? Praticamente dici quello che vuoi, no? Ti inventi quello che vuoi. La Meloni non ha fatto altro che alzare le tasse, una balla che non viene smentita, ma probabilmente serve per convincere i propri elettori che la Meloni non fa altro. Dalla mattina alla sera alza le tasse, prende un quaderno e dice oggi alzo questo, oggi alzo quello. Va bene. Hanno sollevato pure due repolemiche, le parole del Ministro dell'Economia Giorgetti. La prossima manovra richiederà sacrifici a tutti, ha detto il titolare del MEF, parlando della necessità di contribuzione da parte di tutti e lasciando intendere che ci fosse allo studio un possibile aumento delle tasse per banche e grandi aziende. Tutti gli esponenti del governo interrogati sulla questione si sono affrettati a chiarire che no, non ci sarebbe nemmeno l'ipotesi di una nuova tassa. Giorgetti il 28 di settembre ha fatto un documento dove ci sarebbe l'innalzamento delle tasse sul diesel di ben 11 centesimi al litro per andare a parificarle con le tasse che ci sono sulla benzina. Sulla benzina 72, 72 o 73 centesimi di tasse al litro, sul diesel sono solo 62, allora bisogna portare le tasse del diesel a 73 come quelle della benzina perché dice Giorgetti ce lo chiede l'Europa, ce lo chiede il PNRR, quindi bisogna farlo. Questo è scritto, l'ha scritto Giorgetti settimana scorsa e non l'ha scritto l'anno fa, l'ha scritto settimana scorsa. Nel governo si sono affrettati a dire che non è vero quello che dice Giorgetti, che nessuno alzerà le tasse eccetera eccetera, quindi non sapremo che cosa succederà con il diesel o no. Naturalmente se ci sarà questo innalzamento delle tasse sul diesel, quasi tutte le macchine che si vendono in Italia sono quasi tutte diesel. E per questa ragione alla fine diventa poi una tassa quasi per tutti. Forse questo voleva dire Giorgetti, sacrifici a tutti, se io ti alzo il costo del diesel che praticamente utilizzano quasi tutti, diventano dei sacrifici per tutti. Raffaella Paita, coordinatrice di Italia Viva, risponde alle domande di fanpage, dice a parte la sciocchezza che il governo non ha fatto altro che alzare le tasse che è una bugia, dice poi che adesso Meloni si inventerà qualche arma di distrazione di massa, tipo stanno per indagare Arianna Meloni o qualche complotto per distogliere l'opinione pubblica dall'innalzamento delle tasse come quella sul diesel. Da Italia Viva dice, Italia Viva è da sempre contrario ad alzare le tasse, siamo un paese con una pressione fiscale esagerata, quello che si dovrebbe fare è tagliare le tasse, come fece il governo Renzi, non certo aumentarle. Giorgia Meloni in campagna elettorale ha promesso mari e monti, dicendo frasi ad effetto come io non dirò mai che le tasse sono bellissime. In realtà quella frase, non dirò mai che le tasse sono bellissime, la Paita la fraintesa, il senso di quella frase della Meloni era, non dirò mai che le tasse sono bellissime ma bisogna pagarle. Ecco, però non dico che le tasse sono bellissime, ma sono una necessità, quindi anche questa frase tirata fuori da questa Paita non ha senso. E poi aggiunge, è arrivata al punto di governare però non ha fatto altro che alzare le tasse, come dicevamo prima, è una bugia. Ricordiamoci poi quando prometteva il taglio delle accise per poi cancellare lo sconto voluto da Draghi e ora alzarle sul gasolio. Allora, quello di Draghi era uno sconto momentaneo sulla benzina perché c'erano stati dei grossi problemi con la pandemia, il post pandemia e Draghi aveva messo uno sconto sui carburanti. Era uno sconto a tempo, perché lo Stato italiano, la struttura dello Stato italiano vive principalmente sulle tasse della benzina. Quindi ricordatevelo sempre, le tasse sulla benzina non potranno mai essere cancellate. E se si finirà sull'elettrico, quelle tasse in qualche modo finiranno sulle macchine elettriche. In qualche modo lo Stato deve sopravvivere. Se una delle sue entrate maggiori sono proprio le tasse sulla benzina e il diesel, se per esempio fossero tutte macchine elettriche, lo Stato o fallisce o quelle tasse ve le mette da qualche altra parte. Questo è poco ma sicuro. Quando poi la Meloni prometteva il taglio delle accise, la sinistra tira fuori sempre questo video che Meloni fece nel 2019, dove andando a un benzinaio faceva vedere che il costo principale, la componente principale del prezzo della benzina erano le tasse. Era un video che aveva fatto nel 2019, poi le cose cambiano, non si può prendere sempre le cose del passato e spiattellarle tutti i giorni. Naturalmente questa paita, come tutti i politici, fanno una cosa molto semplice. Noi siamo per non alzare le tasse, noi siamo per non alzare le tasse sul diesel, non si alzano le tasse. Facile parlare così. Quando sei all'opposizione è facile, facilissimo dire queste cose. Dice, tu sei d'accordo sul, chiedono a questa paita, lei è d'accordo nell'aumento delle accise sul gasolio? No, assolutamente no. Eh, poi, se un giorno sei a governare, ti accorgerai come le cose le vedi in un altro modo. Grazie a tutti e arrivederci a presto.